Nonostante la parola d'ordine nell'aula del Consiglio Comunale di Padova ieri sera fosse garantismo, non sono mancati gli attacchi e le critiche dell'opposizione, dopo le parole del Sindaco Giordani sull'inchiesta che ha travolto il cantiere dello Stadio Uganeo. Il gruppo di Fratelli d'Italia per voce di Matteo Cavatton chiede di congelare le deleghe all'assessore Diego Bonavina e che si faccia chiarezza sui tempi di conclusione dei lavori di restauro della curva dello Stadio Uganeo. Riteniamo che vengono congelate determinate deleghe, almeno a dinagini di corso e vengono attribuite da un altro soggetto. Anche Francesco Peghin, sfidante di Giordania le scorse elezioni amministrative, si è dichiarato garantista nei confronti degli indagati. Sono molto convintamente garantista perché troppe volte nel corso della vita ho visto indagare e anche portare a giudizio persone completamente innocenti e a cui sono stati fatti vivere momenti psicologicamente terribili prima di essere prosciolti. Quindi a lei, signor Sindaco e l'assessore Bonavina, auguro che sia chiarita più velocemente possibile la vostra inocenza. Detto questo, non posso non direvare che in questa vicenda dello Stadio Uganeo, in questo appalto, mi siete dimostrati gestionalmente poco capaci. Per la Lega hanno preso parola Eleonora Mosco e Ubaldo Lonardi, che ha ribadito come più volte abbia interrogato negli anni, sindaco ed assessore, sui lavori ricevendo però, a suo dire, risposte non sempre esaurienti. 10 febbraio 21, 8 aprile 21, 8 ottobre 21, 1 febbraio 22, 10 ottobre 22. Questo, signor Sindaco, sono le dati di alcune interrogazioni e domande di accesso agli altri, rimonte a lei e all'assessore Bonavina sull'attività sud dello Stadio Uganeo.